Musica Musica José, non ho visto i vostri spettetti, non li trovo più. Non avete bisogno dei vostri spettetti, ma di nada. Io che non ho bisogno, non ci faccio mica leggere una mia tabletta. È ora di prendere un più di giù, mica ha di giocare nella vostra tabletta. Un gioco mica. Cerco una donna. Non per me, eh? Allora, mi aspettate, l'hai visto o non l'hai visto? No. Allora, tu eri zera, l'hai vata bella. Non ho bisogno di giocare, ma una sborna così, mai mai. Eh, va bene, un ero mica così briaca, cacciane la pena. Ma vuoi ridere o che? Non ho bisogno di capire la notte di tavolino, no? Non ho bisogno di capire. Ti farà di remarcare che hai chiamato un taxi per rientre. Ah, allora vedi, ero abbastanza l'ucci di per un pia a movitur. Hai. Ti ricordo quantonque che aveva stai riserva? Era qui, in casa nostra. Ti, ciao. Il video, il video, il video... Sì, c'è un po' di rinchi di per la squadra. T'inquialla? L'accusso. Il mondo. C'è soe lì Ooooooooo, c'è Faça Dù bouger. C'è How we survive La 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 la... Fais nou va-ba, non? C'è quello che fa? Po 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 Tu n'ai mai mai? Non il va craggè ton progetto in carin di una Po 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 lala oh 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 Beh a bordo mis, baio! e gli direi popopo e gli direi lalala e vola Oh pute! Quo? J'ai ancora fenduto le carter da la voiture sulle dodane a l'entrata del village Je me domande qui c'est le con qui a installé ce dodane a cet endroit? Le maire du village? Je peux te dire clairement que c'est un gros 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 service qu'il a rendu à la commune La sécurité routière c'est une priorité pour le bien-être des villageois Et tu sais, est-ce que tu sais combien il y a de morts en France à cause du manque de dodane? Hein? Tu sais combien? Beaucoup! Je vais chez le garagiste Qu'est-ce qu'il y a? Ehi, ehi, un camping car 5,30 a taù bonte. Cosa? Ti ho un gaiufo che caccia bene lì? Ah! Non, non c'è qua l'eboese. Forse Jojo! Dio maganione e Jojo. Cosa? Non, non, non c'è qua. Non, non c'è qua l'eboese. Non, non c'è qua l'eboese. Non c'è qua l'eboese. Ok. E un tis curda che mangiù panni senza glutènes. Ok. E che sono vegan. Ok. E prodotti senza rubaccia chimica. Solo biocommerciù giusto e paro. Ok. Buon app. Ringrazio. Ma che faci cristalcio? Mi sento più sbidato. Oh, aspetta che ci sono buoni. Si, quasi in due. Oh, ma io trovo una due, nella notte internet. Ah, 8 anni. Internet è troppo una. E perché? Tu, come vai? Ti, guarda va l'uomo. Angelo. Questa è qui? Dì, chat! Oh, muizzo. Che bello patone, non è? Che patone? Che patone? È una garezza. Non è l'uomo. Mi piace. Garezza è un po' di. Che da qui per iompatone? Merda, mica scappato da qua. Questo è qui diompatone. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie a tutti